guardasone è uno dei più bel paesi della nostra provincia insomma perché uno guarda giù e si vede lontano e poi per venire a guardasone bisogna salire faticare un po perché ci aspetta qualcosa di grande così il vostro matrimonio vi auguro di guardare lontano e di salire sempre prometto di essere sempre nella gioia nel dolore e di amare e di onorarsi i giorni del dolore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti